amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive oggi parliamo di una macchina bmw x2 però volevo raccontarvi una storia un po particolare perché questa è uno dei classici casi dove il cliente va da un da un altro concorrente diciamo ovviamente non facciamo nomi noi non siamo gli unici sul mercato il mercato delle preparazioni enorme ci sono tantissimi come dire operatori alcuni anche più bravi di noi però alcuni magari non sono proprio del tutto competenti e fanno un po dei pasticci ce ne capitano spesso di queste situazioni questa è una macchina appunto che non è passata da noi come primo come primo intervento il cliente ha chiesto di avere un soprattutto nella parte motore di avere un incremento di prestazioni notevole e non ha come dire si è fidato di quello che il pseudo preparatore gli ha consigliato partiamo dal concetto che questa macchina è una macchina recentissima nuova quindi ovviamente essendo un 180 quindi è un motore turbodiesel ovviamente è dotato di fappe dotato di catalizzatore è dotato di un filtro per la di blu quindi con tutte le normative con tutte le ostruzioni per ottemperare le normative anti inquinamento più recenti il diciamo che il preparatore cosa ha fatto ha convinto che ho convinto cioè gli abbia presentato la macchina così com'era ha agito su determinati parametri che dal nostro punto di vista sono assolutamente sbagliati il fatto come dicevo di andare a toccare o modificare dei componenti come sono appunto il fappe la di blu o il catalizzatore su macchine nuove che non presentano problemi perché questo tipo di problematiche ci sono su fappe di vecchia generazione le prime versioni quelle del 2010 2011 allora anche se a malincuore piuttosto che far fuori il motore a volte si interviene andando a eliminare il sistema ma su macchine nuove assolutamente sconsigliabile morale della favola cosa è successo il preparatore ha tolto in maniera anche maldestra perché quando si tolgono il fappe la di blu bisogna poi farlo sia da un punto di vista meccanico togliendo fisicamente i pezzi per poi entrare in centralina elettronica e disattivare elettronicamente l'addittivazione della di blu che ricordiamo un additivo e il funzionamento quindi cicli di pulizia del fappe morale della favola che c'è stato probabilmente un diciamo una distonia tra la parte meccanica e la parte elettronica il cliente ci ha portato la macchina piena di spie la macchina fumava in maniera veramente esagerata aveva sì le prestazioni perché era stata fatta la centralina ma probabilmente non sono stati esclusi cicli di pulizia per cui la macchina continuava a rigenerare insomma un disastro una macchina nuova che veramente aveva dei grossissimi problemi chi mi ha detto guarda cerchiamo di sistemartela quindi il nostro lavoro sostanziale è stata quella di riportarla originale quindi cercare di rimontare tutte le varie parti questo ad esempio è il filtro che c'è alla fine dello scarico che è il filtro che va a trattenere quello che è la sostanza che espelle il l'ad blu perché è stato montato un terminale artigianale quindi non omologato doppia uscita adesso qua noi dobbiamo cercare che questa è l'unica parte che cerchiamo di salvare dal lavoro precedente vedremo di tenere buono il doppio scarico e di inserire quel quel filtro che serve appunto per trattenere il residuo dell'ad blu in una diciamo in una posizione diversa dalla precedente in maniera tale da riportare che sennò si accende la spia quindi se uno non rimonta quel filtro la macchina continua ad andare in protezione detto questo abbiamo riazzerato la parte diciamo elettronica e abbiamo ovviamente come consigliamo a tutti i nostri clienti visto che la macchina è nuova una macchina così fosse andata in bmw non gliela facevano neanche entrare gli stracciavano la garanzia ancora prima di entrare in officina quindi abbiamo riportato diciamo la macchina originale dobbiamo finire di sistemare quel silenziatore che ci dobbiamo studiare su un attimino e abbiamo come al solito adottato il sistema della centralina seletron disattivabile quindi caricando i parametri di coppia potenza in maniera tale come abbiamo spiegato tante volte che il cliente prima di andare in assistenza sfila la centralina mette il tappo di chiusura del circuito e la macchina rimane completamente stock quindi non possono contestare nessun tipo di problema quindi al di là di avergli rimesso la macchina in ordine perché ripeto la macchina quando c'è entrata era veramente c'era il quadro strumenti che sembrava un albero di natale adesso uno accende il quadro c'è un'unica spia che dobbiamo finire di spegnere che è quella appunto di quel silenziatore dopodiché la macchina ritornerà perfettamente funzionale e questo è un lavoro fatto con criterio quindi attenzione a farvi potete andare da chiunque ci sono tanti centri adesso non è che con questo video dico noi siamo più bravi di altri l'obiettivo è quello di cercare almeno un centro competente che abbia delle buone recensioni che abbia una buona storia che abbia una competenza come dire concreta quindi al di là del discorso costi non costi se dovete modificare una macchina attenzione alle mani a cui affidate la vostra vettura perché poi alla fine come in questo caso spendete due volte perché abbiamo dovuto riportare tutto originale e ovviamente abbiamo dovuto fare del lavoro e questo lavoro comunque richiede della mano d'opera e la mano d'opera ovviamente ha un costo il cliente sarà contento però la prossima volta ci penserà due volte prima di andare dal cicillo carmine o peppino meccanico in maniera tale da evitare brutte sorprese quindi io direi che anche per questa per questa avventura è tutto vi ricordiamo come al solito di andare a visionare il nostro sito www.9000giri.it dove vedrete anche la storia di questa macchina guardate nell'archivio elaborazione dove trovate più di 1500 vetture e nello specifico mi sembra più di 250 vetture solo del marchio bmw chiamatemi anche solo per un consiglio mi chiamate per qualunque tipo di informazione mi trovate sempre in sede allo 027383175 io sono luca mi trovate sempre e soprattutto vi ricordo di cliccare sulla campanella qua sotto di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.